Salute! 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 il pistone buonanotte a tutti grazie a domani ciao hai sentito che l'ho chiamato Fellini Elio? perché tu mi hai detto di chiamarlo solo così altrimenti lui non è la buona il pistone si è montato la testa mi hanno detto chi è Pistone? copertone che stai dicendo? pistone il nostro copertone che è un bravo giornalista però si è montato la testa ritorna per terra allora da chi partiamo? da chi sale? dai chi sale dalla Juventus? Zebinat Trezeguet e Marchisio pistone salgono a Zebinat scusami ma comunque crescita la Juventus c'era anche il giocamento non c'è nessuno troppo lungo per Amauri esce Carizzo neanche quando gioca l'Inter Elio Corno è così scatenato ma cos'è che è andato in onda? quando gioca l'Inter sei quasi non è passato ma cos'è che hai fatto Diziano? dillo alla zia cosa è successo? a parte il balletto io ho sentito è andato in onda io ho sentito un impropria un apprendimento un po' scurire di poschino anche è andato in onda è un triunfo stasera può succedere non c'è nessuno troppo lungo per Amauri è bello questo di Padovano fatti i cazzi tuoi dai non fare lo stronzo non farlo con te no allora adesso io tu devi parlare del Milan no ma non frega un cazzo te è conducente di merda bastardo grazie ma dove sei? vai a fare il culo te è conduttore di merda ma dai ma cosa dici cazzo? te è conduttore di merda ma porco cane ma con compro ma c'è pure i tanti tuoi eh devo leggere quant'è? tre minuti peccato che non mi... adesso parliamo di Ronaldinho ma non essere così disfattista ma perché porco cane? sei una merda fammi a dire che cosa? quello buon Giovanni la splendida Viviana Viviana stupenda Viviana Cruz al debuto brava Viviana un applauso a Viviana vieni qua fatti vedere Viviana vieni qua eccola qua allora domani l'appuntamento è finito buonanotte a Sorate e chiede muerta non c'è nessuno non c'è nessuno non c'è nessuno non c'è nessuno non c'è nessuno